cari ascoltatori bentornati puntata speciale perché insieme a me c'è un carissimo amico che ci viene a trovare nuovamente di tanto in tanto ciao scusate faccio il tono di halloween però c'è stato ieri halloween quindi siamo in piene feste di mostri assolutamente io sto bene sono siamo stato un po preso da lavoro e varie cose ma sono sempre felice di tornare qui perché questo podcast per me ha un posto speciale nel mio cuore devo dirti beh vero sì sì è un bell'appuntamento io quando quando faccio questo podcast proprio sono contento mi regala serendipity dai usiamo questa parola un sacco di tempo che non la sentivo questa parola serendipity eh sì ma io sono nato e cresciuto c'era anche un film c'era un bellissimo film con i nonna rider super romantico new york periodo di esattamente sì sì ricordo l'ho visto all'epoca ero molto molto più romano c'era Richard Geer può essere no secondo me no sai chi c'era quel quell'attore che poi non ha avuto tantissima fortuna però secondo me era bravo e beh se ci sono i nostri ascoltatori che lo sanno direi che ce lo devono necessariamente scrivere nei commenti comunque ma anche il terzo non c'è due senza tre nel senso che volevamo avevamo provato a coinvolgere anche il mitico Emilio che però grande Emilio gli mandiamo un saluto e un grande abbraccio ma il link in realtà della della colla gliel'avevamo mandato però non era è con noi in spirito è in spirito sì anche perché tre sono stati gli annunci quindi ci volevano tre persone tre persone a parlarne no costia posso dirlo che settimana per apple che settimana sì sì è stata è stata una bella settimana io ho provato a starci dietro non so se hai sentito i mini appuntamenti che ho che ho registrato il tuo fan è il numero uno sì sì è stata davvero una bella settimana in realtà non c'è stato niente che non ci aspettavamo io più o meno tutto quanto era abbastanza scontato però come l'hanno presentato e soprattutto la qualità dei dei risultati adesso cominciano ad apparire con i primi benchmark sono davvero impressive come dicono gli americani io vi dico che questo m4 secondo me farà scatafasci e io lo prendo eh ve lo dico chiaramente quindi alla fine prenderai m4 hai fatto bene ad aspettare alla fine sì ti ricordo io ti dicevo ma no prenditi comunque l'm3 ma in verità hai fatto bene io considerando che il mio ciclo di cambio di vita per me il computer mi paga le bollette mi dà da mangiare però ho un ciclo abbastanza lungo 4 5 anni e devo dirti che ho fatto bene ad aspettare perché si parla di 30 per cento di potenza in più 45 per 45 ragazzi ma di che stiamo parlando sul cumulativo multi thread l'm4 pro è circa il 45 per cento più veloce dell'm3 pro poi chiaramente parliamo di benchmark ho capito ma ma anche che fosse un 25 per cento ma è veramente tanta roba sì tra l'altro il prezzo non è neanche tantissimo più alto degli m3 pro dell'epoca quindi io lo dicevo durante l'ultima delle dei mini appuntamenti che ho registrato onestamente se si ha budget infinito comunque non si ha problema economico troppo forte il max secondo me è una bella macchina cioè una di quelle che ti salvaguarda l'investimento più a lungo termine però anche l'm4 pro non è assolutamente sottovalutata anche perché adesso poi tra l'altro di base lo danno con 24 giga di ram 16 ah il pro no io pensavo l'm3 liscio m4 liscio scusami l'm4 liscio ci fanno confonde ci fanno confonde quindi tu tu vai di m4 liscio non no io vado di m4 pro penso e abbiamo scoperto che apple quindi questi 8 giga dove c'era stata una levata di scuduti da parte degli utenti li ha ascoltati gli utenti ma io lo dico da anni che non ascoltava direttamente me con emilio ne abbiamo parlato tantissimo era scandaloso ragazzi è uno scandalo scandaloso sì anche i 16 giga devo essere sinceramente si parla io ho visto vari benchmark si parla molto bene dei 16 giga ma secondo me io 32 o 36 perché mi pare che il pro ne ha 32 il 36 per il max giusto no 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 i 32 sono un retaggio del passato adesso i numeri vanno un po diversi 36 si parte da 24 24 perché sono moduli da 12 non so bene il moltiplicativo qual è però sono 24 e poi diventano 36 ok io spero di prendere i 36 giga e il solito tera di hard disk ti posso dire una cosa ma tu lo sai che mi ha tentato tantissimo il mac mini è che io lavoro in mobilità ma il mac mini ma emilio era era uscito dal silenzio stampa settimana scorsa mi aveva scritto sono tentato voleva prendere il mac mini sono belle macchine gli scrissi questo qui onestamente io come te non riesco a giustificarlo cioè se passassi tutto il mio tempo a casa e allora sarebbe sicuramente una una scelta adeguata però per chi deve considerare anche la mobilità come parte integrante del lavoro avere la macchina a casa non non funziona bene quindi no 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 però mi ha tentato perché è una gran bella macchina assolutamente assolutamente sono belle sono nuovo design insomma se ne parlerà tanto piccole sì 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 su threads su su twitter ex twitter su x su mastodon ogni mattina apro guardo e ci sono tantissimi post che cominciano a raccontare è super bello e quello e quell'altro anche il design insomma fa la sua parte e diventa diventa anche un po' uno status symbol bella macchina mi riprometto di guardarla quando avrò un un po di tempo se mi capiterà l'occasione di guardarla un po più da vicino però comunque la mia macchina resta comunque di riferimento resta comunque il macbook pro sì come necessariamente anche per me sì tra l'altro giusto per chi ci ascolta se vorrebbe andare gli viene la curiosità di andare a guardare sullo store di apple anche il modello base quello che era una volta l'entry level che adesso arriva con il con l'M4 perché hanno anche una versione con con m4 base liscio quindi 16 giga di ram 10 core 10 core non è male insomma secondo me è una macchina avanzata molto più avanzata di tantissimi ma certo ma guarda l'ho detto in questi mini annunci che ho fatto secondo me stanno riscrivendo in maniera veramente iper bella iper professionale il concetto di entry level cioè avere 10 core di un m4 con 10 core di gpu 16 giga di ram e 512 giga di disco a 1900 euro con una macchina è una gran macchina è una gran macchina poi chiaramente a salire non c'è mai fine si può arrivare anche a 4000 euro per il modello base ti dico una cosa che la qualità diciamo il rapporto qualità prezzo secondo me va a scendere rispetto all'aumento del costo cioè se io ho un m4 base chiamiamolo liscio a 2000 euro diciamo che ho un rapporto facciamo uno se ne spendo però 4000 non ho un rapporto due per me avrò un rapporto no secondo me di meno tu dici io ho questo sospetto che al crescere ci sia meno cioè più entri in un mondo professionale più hai necessità spinte e più devi pagarlo moltissimo quello che hai tu hai avuto una sensazione diversa allora in realtà apple comunque si fa pagare l'optional di più mi viene per esempio in mente parentesi importantissima il display nano texture prima volta in assoluto questa è una figata una figata incredibile sì il nano texture sul macbook pro è una bella aggiunta se lo fanno pagare credo un centinaia centosettanta euro in più ma non è tanto quello è il classico incremento della ram del disco ssd e anche del processore che lo paghi tantissimo ma fa parte di apple sul guadagno il moltiplicativo secondo me non è non è più basso di un rapporto costante tipo uno a uno senti ma come invece qualità dei componenti sai che tempo fa ci fu lo scandalo e sulle sugli hard disk sulle memorie ora non ricordo bene che c'erano dei componenti sugli m1 particolarmente lenti sugli m1 base no no allora sì sì ricordo ricordo anch'io questa cosa fu uno scandalo onestamente ma in realtà non è che erano lenti il problema era che c'erano due memorie quindi quando tu compravi il modello da 256 giga di ssd c'era una sola memoria mentre la versione da 512 giga aveva due memorie che viaggiavano in parallelo e quindi raddoppiavano la velocità adesso si parte da 512 giga ancora un po' presto non ho visto i benchmark di velocità e altro se non quelli apparsi proprio sulle potenza pura del processore però credo che questa cosa qui sia stata messa da parte perché appunto si parte da 512 giga quindi immagino che questo problema non ci sia più anche perché chi lavora con il mac come noi se succede qualcosa io mi incateno al portone di cupertino all'uno apple way e comincio a gridare viva windows ma a proposito di 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 cupertino secondo me miglior momento non c'è in questa puntata tu sai che ho scritto a tim cook sì allora attenzione scusate 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 chi ti ha detto adesso ho scritto a tim cook chi ti ha detto di scrivere a tim cook facciamo un passo indietro facciamo un passo indietro alla fine mi sono fatto convincere dalla dall'acquisto dell'iphone 16 pro esatto perché ho detto ma arriva adesso apple intelligence che tra parentesi arriverà finalmente c'è l'annuncio ufficiale ad aprile anche in italia e questa roba ha spinto tantissimo ha spinto tantissimo quindi arriverà anche in italia io come sai faccio questo giro delle tre carte in famiglia mia moglie aveva un un iphone 14 pro io avevo il 15 pro e quindi ho detto ma sai che c'è siccome il 14 pro comunque non avrà il supporto per l'intelligence comunque mia moglie utilizza queste cose qui provo a vedere quanto apple me lo va me lo valuta per fare l'acquisto il trade in quindi per il 16 pro ed il prezzo era davvero allettante era messo nel ricordo 570 un buon prezzo che comunque in realtà io non sono un venditore professionista cioè non avrei mai venduto questo dispositivo a prezzi più alti o anche a questo stesso prezzo a privati perché mi sarei dovuto mettere annunci quello quell'altro non sono il tipo onestamente quindi ho detto ma sai che c'è provo questa cosa ma alla fine il prezzo da aggiungere per prendere il 16 pro non era tantissimo si può fare e quindi procedo con con questa strada compro il 16 pro che vado però a ritirare in apple store e poi loro mi mandano a casa questo questa scatolina dove andare a mettere 14 pro per tornarlo indietro quando poi arriva ad apple loro ti fanno il riaccredito su carta prima volta in realtà che io provavo questa questa cosa non l'avevo mai fatta e così è stato c'è arrivata sta scatoletta sono rimasto un attimino perplesso perché è una scatola di cartone che tu apri dentro ci sono delle istruzioni poi gli rimetti il telefono riaffranchi con queste righette in plastica e porti al centro ps e così ho fatto ovviamente devi sbloccare il telefono quindi togli find my iphone tutto tutto è un telefono liscio a prova di qualcuno che se lo vuole rubare non voglio fare spoiler però è quello che è successo perché lo porto in in ups e loro mi danno la ricevuta quindi tutto a posto e comincio a seguire con il tracking questa cosa qua ma ad un certo punto due giorni prima arriva e al centro smistamento quello e quell'altro dopo il secondo hop questo pacchetto si perde e mi comincia ad arrivare io mi immagino un cinese nel sottoscuola che fa sorry your phone is lost sorry your phone is lost come notifica del 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 sistema di tracking mi dice si è verificato un problema contatta il mittente in questo caso apple allora io prima prima di tutto provo a chiamare ups ups mi dice no guardi lei non è il mittente del pacco originale non possiamo dare noi non sapere io non sapere non capire non sapere perché poi ormai ti mettono in contatto con un call center che si trova in in burundi con cioè con tutto il rispetto per il burundi sono dislocati in posti in tutta anche extra europei poi su questo poi si apre un'altra un altro capitolo che a cui ci arriviamo tra breve però comunque io prima provo a parlare con con un ps ps mi dice guardi io non posso darle nessun tipo di informazione perché il pacco non non è stato lei a mandarlo deve contattare il mittente dunque apple lì si apre un film infinito perché apple appunto come dicevi te mi mi comincia a rimandare in questi centri di primo livello in albania in romania da qualche altra parte io provo a spiegare questa storia la prima volta seconda volta terza volta ogni volta che mi rimbalzano devo raccontargliela nuovamente da zero non se ne esce più stiamo parlando di apple che ha fatto del servizio clienti un monumento nazionale come amazon e però perdiamo però però secondo me sì soprattutto questo tipo di secondo me non sono preparati a questo tipo di di evenienze sebbene non credo che sia stato l'unica capitale anche perché se guardi su reddit o da altre parti è una cosa abbastanza comune con fedex e ups misteriosamente questi pacchetti di apple trade in si vanno perdendo quindi non è una cosa non è un'evenienza molto rara capita abbastanza spesso comunque sia passa una settimana e questo prodotto continua ad essere lì io non ricevo nessun tipo di informazione a quel punto sento roberto così per sfogarmi un pochino quindi voi immaginate voi immaginate aspetta perché tu la stai facendo un po' edulcorata ma immaginate il commento tecnico che il buon costia mi fa siccome siamo in fascia protetta non lo posso ripetere però insomma non era sicuramente felice ero alterato esatto non era sicuramente felice di quello che era che era capitato poi io ho voluto metterci una pezza e che cosa ti ho detto perché non scrivi a team cook lì per lì può sembrare un'ipotesi da pazzi ma la verità la verità è che siccome apple ha costruito la propria azienda in un certo modo cosa è successo costia questa qua è stata davvero una bella sorpresa perché in realtà non mi ha risposto team cook ma credo che l'indirizzo di team cook sia un alias che vada a certi livelli di di supporto tant'è che dopo un paio di giorni mi risponde una persona cordialissima da da emea quindi da irlanda credo sì gente che sapeva di che cosa stava parlando assolutamente c'è un profilo un alto livello un profilo abbiamo scalato e mi dice guardi non c'è nessun problema sappiamo di cosa si tratta e mi dia il tempo di verificare un paio di cose dopo credo meno di 24 ore mi arriva il l'email da parte di apple che mi dice guardi che abbiamo iniziato la procedura di riaccredito sulla sua carta pagante dell'importo prestabilito io ho verificato e in realtà questo telefono ancora resta se guardi il tracking resta ancora non non arrivato a destinazione quindi comunque ci ha rimesso soldi di tasca sua apple se lo può permettere secondo me ma in realtà è una questione di professionalità anche perché io non posso farci nulla insomma se c'è qualcuno scorretto nel giro io ho il sospetto che i corrieri quindi ups fedex tutti questi qui possono avere dei dipendenti infedeli no ma più che altro lo sanno robbi cioè ci sono questi pacchettini che hanno tutti la stessa forma tutti la stessa dimensione poi c'è questa azienda diciamo quest'alias perché tu non lo rimandi ad apple lo mandi ad un'azienda con un nome fittizio che ha sede in olanda e loro lo sanno insomma ad un certo punto credo che lo sappiano e queste cose le fanno sparire anche perché sono telefoni che sono completamente sbloccati ora io credo che anzi non credo sono sicuro che apple a quel punto abbia iniziato la procedura perché loro sanno il numero di serie del dispositivo che gli stai quindi lo puoi usare come mattone praticamente sì glielo avranno bloccato e questi telefoni può andare a buttare indipendentemente da find my iphone o altro qualunque cosa se lo bloccano a livello di e-mail lo puoi usare in un muro lo usi come mattone esattamente no ma più che più che a livello di e-mail che fa parte della della comunicazione gsm loro hanno anche il seriale del dispositivo quindi a quel punto possono inibire proprio la partenza l'installazione di ios eccetera eccetera legata proprio a quel particolare numero di serie quindi diventano dei mattoni inutili quindi assolutamente in europa secondo me in cina li possono riutilizzare non ho questo sospetto sì perché il seriale è legato a un e-mail per obbligo e quindi se tu blocchi il seriale ma io l'e-mail l'e-mail sgombro cioè libero non ha particolari restrizioni puoi utilizzarlo in un posto dove che ne so lo porti in cina fanno un jailbreak mi pare che c'è la possibilità queste sono tecniche avanzatissime di cui io ho solo sentito parlare lo diciamo chiaramente ma ho sentito che è possibile anche fare o un falso e-mail o un falso un falso seriale costi io ho sentito non ti dico né chi me l'ha detto né a che proposito che diciamo in recenti eventi dei falsi seriali sono stati utilizzati poi non so se è vero non so se è una millanteria non so io non ho le competenze tecniche per giudicare l'affidabilità di questa informazione ma ti posso dire che è una voce che è circolata anzi se qualche hacker in ascolto con qualcuno con con conoscenze avanzate sul sul gsm su tutta questa tematica ci ascolta ci dica se secondo lui è tecnicamente possibile non vogliamo sapere se l'avete fatto meno secondo me non ti risponderanno mai ma sai è bello insegnare agli altri è bello il livello accademico mi lascia l'unica cosa che mi c'è perplesso il fatto che anche con un numero di serie blacklisted quindi con il seriale dell'iphone blacklisted tu dici si possa riutilizzare potrebbe essere non lo so onestamente va fuori dalle dalle mie competenze dirette ad ogni modo giusto per per chiudere il cerchio alla fine hanno risolto la cosa lato lato apple è un peccato che devo dire non puoi fare affidamento su ps altri peccato però apple assolutamente non ha il merito è uno delle diciamo delle cose per cui io compro apple anche perché ho un'assistenza tale in questo caso abbiamo dovuto un po tirare la giacchetta questo è questo è customer care proprio customer care puro ma in verità ti ripeto secondo me il problema del primo livello del dell'assistenza di apple è il fatto che queste sono situazioni abbastanza particolari perché c'è un terzo incomodo che è il lo spedizioniere quindi ups fedex e lì chi è che si prende sta responsabilità bisogna far scalare questa cosa voglio dare voglio dare possiamo dire il giorno che tim cook ci sbloccò il problema ci sbloccò ci sbloccò il problema salutiamo salutiamo tim cook che sappiamo essere un assiduo ascoltatore del nostro podcast sì assolutamente sì assolutamente prima poi gli iscriverò comunque grande tim tornando a noi tornando alla dopo sta parentesi tornando a noi con con i macbook pro ti dicevo sì si fanno pagare gli accessori però io non ho questa percezione del fatto che quando spendi 4000 euro il guadagno non sia il doppio insomma se spendi il doppio al guadagno dopo secondo me sì anzi ti dirò che a mio modo di vedere l'M4 max ti dà più del doppio come come tutto non solo come potenza percepita perché vedi ad un certo punto la potenza pura del processore e di tutto quello che ci gira attorno quindi gpu velocità del del bus della memoria eccetera magari non lo riesci più a percepire ma in termini di longevità della macchina che poi è quello che interessa a tutti che poi è quello che interessa tutti ora io capisco che spendere 4000 euro per un portatile non è alla portata di tutti ci mancherebbe per carità queste sono macchine di lavoro costi non le compri sono macchine di lavoro però io io in questo momento stiamo registrando io un po mi alterno utilizzo ogni tanto l'ipad in questo momento sto registrando dal mac io ho un m2 max e l'ho pagato più o meno questa cifra qui cioè costato davvero tanti soldi circa 4000 euro ma neanche mi sogno in questo momento di cambiare il computer perché la la appunto come dicevamo prima la la percezione che hai di quella potenza in verità io non riesco a capire cosa potrei fare di più se non un montaggio forse quello l'unica cosa è quella lì in effetti in quei pochi esperimenti che abbiamo fatto che mea culpa sono poi andati male della parte video del nostro podcast mi sono ritrovato con mole di dati 4k da montare eccetera che erano davvero pesanti forse lì questa potenza in più la comincia a vedere però entriamo in un segmento davvero verticale per verticale certo come fu ai tempi per i mac studio quando tu avevi bisogno di fare rendering avanzato di oggetti 3d con il tracing delle ombre delle luci eccetera eccetera avevi bisogno di quelle macchine che poi arrivavano a costare anche ma tu te lo ricordi che arrivavano a costare 8 10 12 mila euro ancora ma ancora ci sono quello sarà sarà la seconda ondata che vedremo a metà forse ad aprile sì del 2025 arriveranno i mac studio il mac pro sì certo che verranno ma lì secondo me sono costi secondo me lì sono macchine per usi veramente veramente specifici cioè quante persone conosci che fanno ray tracing oggettivamente nessuno nessuno a livello di rendering io conosco una sola persona che lo fa ma c'ha sempre macchine nuove ce l'ha il leasing le cambia costantemente perché fa questo di mestiere e quindi di conseguenza ha bisogno di no di avere sempre il massimo della potenza perché per lui ogni minuto è un'altra operazione un altro cliente un altro un altro prodotto che può fare ma ripeto secondo me siamo nella ultranicchia quello che invece costi a io poco fa mi hai dato un gancio che secondo me e ne hai trattato tu già in alcune pillole che hai fatto e quello degli accessori ragazzi io ho un onoratissimo perché di questo si può si può solo parlare mouse il magic quello ancora batterie sostituibili ok che mi ha servito onestamente per tantissimi anni devo dire che questa settimana sembrava morto poi è resuscitato carica libera defibrilla insomma non so se si sta avvicinando il momento di sostituirlo io devo dire mi sono trovato bene lo possiedo dal 2008 ragazzi dal 2008 significa 16 anni è un'era geologica in informatica però io non ho visto innanzitutto quello nuovo ha ancora la carica lightning una cosa no 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 lightning attenzione diamo acceso perché hanno passato tutta usb c sì il problema è che ce l'ha ancora sotto sì cioè volevo dire ok hanno hanno la carica sono passati prima a lightning poi a usb c devo dire che non è una cosa intelligente o comoda anche perché io il mouse allora su questo si è aperto un dibattito davvero infinito su trez che ho seguito e ho provato anch'io a dare la mia perché sembra che questa cosa qui non sia una negligenza o un non voler ridisegnare il mouse o meglio probabilmente c'è anche un problema di costi altro però il fatto che apple ti obblighi a bloccare l'uso del mouse quando lo ricarichi è voluto cioè sembra che apple non voglia che tu abbia un'esperienza di uso del mouse del magic mouse con un cavo perché molti dicono ok se tu avessi io io c'ho un un logic logitech scusami mx3 come mouse che ha la possibilità funziona provato non a me non mi fa impazzire a me non dispiace devo dire oramai mi sono abituato ma non era questo il punto il punto è che il logitech logitech scusami ha la possibilità di funzionare anche con il cavo quindi tu gli attacchi davanti questo usb c poi attacchi il cavo al mac e funziona nel frattempo si ricarica lo puoi utilizzare questa esperienza da quello che leggevo non è quello che apple vuole cioè loro dicono il magic mouse è pensato da un punto di vista di ergonomia da un punto di vista di velocità di trascinamento di scorrimento eccetera è pensato per funzionare senza cavo dunque se tu ce l'hai scarico lo devi caricare e poi riutilizzare capisco che è un opinabile discutibile come punto di vista però sembrerebbe che questa sia l'esperienza che apple vuole per quel tipo di prodotto tant'è vero che la tastiera e il trackpad il magic trackpad possono essere utilizzati mentre li carichi funzionano tranquillamente quindi lì l'esperienza è tipica lo attacchi al cavo e lo puoi utilizzare il mouse è una storia a parte fa discutere questa cosa io ci ho scritto come dicevi tu quella quella pillola mi sono messo a ridere e non lo so se lo comprerò anche perché come diceva qualcun altro è vero sono passati a usb c però è sempre la stessa storia non è cambiato praticamente nulla in questi accessori devo dirti costia che su questi accessori e non capisco la logica dietro visto che comunque gli accessori potrebbero essere un'altra fonte per apple non capisco questo blocco dello sviluppo perché oggettivamente è la stessa roba da 20 anni 20 no ma insomma 15 anni sicuramente sono sono molto scettico io perché ho una tastiera che ho comprato di super saldo originale apple 30 euro però signori trovate a una svendita uni euro in un cestone non so come mai era sei il cestone delle offerte sì sì e dal fondo mi guardava solitari dicendomi portami a casa portami a casa l'ho presa 30 euro mi è sembrata regalata perché è una tastiera insomma abbastanza nuova buona tutta in alluminio insomma una signora tastiera non è la ultimissima però insomma mi ha soddisfatto ma è sempre quella mi piacerebbe rivedere un po di innovazione anche sugli accessori poi per carità ci accontentiamo dell m4 pro e dell m4 max ma in verità secondo me questa qui è quelli quegli accessori magic mouse magic trackpad magic keyboard sono lo standard che loro tra l'altro mettono ad esempio con la i mac ma anche è passata la notizia arriveranno con con i mac pro se compri ora un mac pro ci sono questi come come accessori insomma non ci stanno investendo tantissimo non so se è giusto o meno in verità apple è un po conservativa da un punto di vista di esperienze hardware con gli utenti ma tra l'altro gli esperimenti che hanno fatto sappiamo bene che non sempre sono andati bene tipo la tastiera dei macbook di un po di anni fa l'hanno dovuta rimpiazzare e tornare indietro la farfalla madonna capito quindi sai secondo me ci pensano due volte è un bel prodotto io ne ho io ne ho uno nero che mi regalò mia moglie un po di anni fa per natale magic mouse ce l'ho nel cassetto in verità perché trovo scomoda questa cosa qua io lo utilizzo tanto e poi dopo un po la batteria comincia a dare segni di incertezza potrei persino farti un'offerta cioè per acquistarlo questo che tiene nel cassetto no 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 io ci sono alcune cose di cui sono gelose sono custodisco e conservo gelosamente come come un un cultore tipo i primi iphone l'iphone l'iphone 3g e l'iphone 3gs sono di quelli e l'iphone 4 sono di quelli che non venderò mai li conservo ce li ho in bacheca e anche questo anche il magic mouse secondo me rientra tra alcuni prodotti di culto di di cupertino però sì capisco assolutamente la tua considerazione quella anche di tanti non sei l'unico a dire che dovrebbero un po innovare dal punto di vista di accessori vedremo vedremo senti ma quindi allora tu prenderai se non ho capito male vorresti prendere l'm4 pro sì io vorrei prendere un m4 pro perché vorrei il giusto diciamo equilibrio fra prezzo e fra prezzo e prestazione posso farti una domanda 14 o 16 pollici ecco qui si apre un grande capitolo io viaggio ormai non come una volta ma mi muovo spesso e tra l'altro mi piace tantissimo cambiare postazione cioè a me piace mettermi in terrazzino a lavorare non soltanto nello studio mi piace andare a lavorare anche spesso da un cliente mi piace diciamo con tutti quelli con cui collaboro a volte fermarmi nel loro ufficio e il 16 pollici mi offre un po di più perché mi mi capita spesso di dover fare anche dei lavori dove devo vedere della grafica mi servono dei dettagli il 14 allo stesso tempo è più leggero non indifferente vantaggio di essere leggermente più economico è più diciamo compatto da trasportare da utilizzare sono molto 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 indeciso devo essere sincero probabilmente mi orienterò sul 14 ma il 16 non è un'opzione totalmente esclusa il 14 lo voglio diciamo viro verso il 14 più o meno perché ha una portabilità maggiore e quindi il 14 sono un sostenitore dell'ultracompatto ai tempi d'oro di apple io ero con il powerbook da 12 pollici 17 12 quello piccolissimo il madonna che ricordi che ricordi era una bella macchina quindi sono sempre stato legato anche perché quando non sono in mobilità lo utilizzo con un monitor esterno anche io non c'è storia sì io utilizzo un lg il 5k di lg però chiaramente non è il monitor di apple funziona molto bene ha una bella risposta cromatica di colori non è ovviamente mi permetto mi permetto qui di sentire io ho un monitor 4k con i colori pesati pensato per la produzione video regge il confronto non so con quelli nuovi ma questo è un del 27 pollici 4k pensato esattamente proprio per produzione video e foto e devo dirti che regge il confronto sì sì ma io l'unico allora non sono bravo come te soprattutto non riesco a dare una un giudizio preciso su quanto i colori corrispondano a tra i due non parlavo di questo mi riferivo soprattutto al refresh rate perché per quanto questo lg sia un buon monitor non hai refresh rate del display del macbook e quando stai io passo anche 10 12 ore al giorno davanti al computer conosco questa storia anche io fai un po di fatica cioè dire quando sei sul macbook io nel pomeriggio soprattutto quando la giornata comincia a finire sei davvero stanco io stacco tipicamente il monitor esterno e mi metto nel divano a lavorare con il macbook e devo dire che la la risposta che hai nella nella visiva agli occhi alla fatica che fai agli occhi è molto molto minore non te lo so spiegare bene però no no ma lo capisco capisco perfettamente lì bisogna bandare di studio display però esatto fuori prezzi fuori prezzi sì no no non ci sono questi prezzi cioè se team ce ne vuole che sempre ricordiamo essere un grande ascoltatore ce ne vuole regalare un paio noi non diciamo no ma sinceramente sono costi molto importanti tra l'altro mi riaggancio a quest'ultima cosa perché tutta la serie degli m4 pro e gli m4 max tutta la serie m4 ci portano un supporto a monitor esterni con refresh rate più alti perché certo uno dei cap che hai attualmente che avevi con le vecchie generazioni di processori m era il fatto che non riuscivi a pilotare esternamente a parte risoluzioni mostruose tipo 8 cap eccetera non riuscivi a pilotare refresh rate più alti di 60 hertz adesso questa nuova serie quindi gli m4 nuovi riescono a pilotare fino 240 hertz per gli m4 pro ed m4 max l'em4 liscio non riesce quindi si aprirà anche un un mercato di monitor di terze parti che cominceranno a supportare tutte queste risoluzioni e questi refresh rate altissimi certo quindi non non vedo un futuro troppo lontano in cui anche monitor tipo lg samsung e terzi dell potranno supportare avranno monitor ad offerta che riescono a tenere questi refresh rate che fino ad ora erano ci sono dei monitor esterni penso ad asus però sono tipicamente monitor da gaming quindi non erano super fitted per 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 macbook vedremo comunque sono sono grandi macchine costa cioè io devo dirti che a parte essermi piaciuta moltissimo la presentazione devo dirti che ha fatto una bellissima line up cioè se chi ci ascolta era indeciso secondo me è il momento di prendere adesso senti ma john ternus sicuramente sarà il nuovo seo di di apple ne parlavamo con emilio il fatto che questi tre eventi non so se è notato in nessuno dei tre mini eventi perché hanno fatto un video per ognuno quindi per il mac mini per il live mac e per il macbook pro in nessuno di questi video è apparso tim cook c'è stato sempre john ternus che è il vp della parte hardware engineering in apple e ne parlavo con emilio ma non siamo soltanto noi a pensarla così sembra che lui sarà il più gettonato per succedere a tim cook quando sarà io ti devo dire che ho letto le stesse voci tutti puntano su di lui mi faccio solo una domanda no quanto è artista e quanto sia ingegnere perché apple se apple ed è arrivata dove adesso lo ha dovuto a un mix di nestrosità artistica anche pazzoide se vogliamo perché steve era un po pazzoide e diciamo eccellenza tecnica questo mix questa convergenza di estro e di tecnica hanno reso apple la grande azienda che oggi mi chiedo se lui non sia troppo ingegnere ho questo dubbio ma sicuramente è un grande ingegnere forse non è un super artista però devo dirti io non me ne preoccuperei sai perché perché neanche tim cook è un un artista però è più artistico di è più artistico di è più artistico di 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 ternus perché secondo me ma secondo me sì c'è e tim ha un'estrazione diversa un'estrazione anche culturalmente mi sembra che lui venga diciamo dalla da tutto il movimento della della silicon valley e del dell'interazione uomo macchina ora non ricordo ho letto una storia su di lui dove si raccontava un po del suo background culturale io lì mi ricordo che pensai proprio questo cioè questa era una persona adatta a diventare se o di apple perché oltre a tutte le caratteristiche tecniche necessarie per chi opera a quel livello quindi di decisione resilienza capacità tecnica eccetera eccetera aveva anche quella scintilla no culturale artistica eccetera 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 poi non so magari è una nostra impressione no io non sapevo non sapevo onestamente di questa di questo lato super artistico di no super artistico no ma artistico sì tra l'altro lui ne parlò in occasione del si parlava di diritti umani e lui disse beh io ritengo che anche la mia formazione culturale sia dovuta a tutta una serie di caratteristiche cioè essere nato dove sono nato anche avere partecipato al movimento gay lui è dell'alabama sì ma lui però si spostò molto presto in 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 california e quindi anche avere quella assorbito quella quella parte piccola grande che sia di cultura hippie un po movimento dei diritti civili un po fermento artistico degli anni 70 80 secondo me ha contribuito a portarlo lì dove è e a portare apple lì dove è perché comunque team cose buone e grandi ne ha fatto ma team cook è un grande uomo d'affari ne abbiamo parlato tante volte c'è un uomo che sa mastering come dicono gli americani inglesi dei numeri dell'economics cioè ha portato apple ad essere un'azienda trilionaria quindi cosa che steve jobs non è riuscito a fare è un grande uomo cesare qualche di cesare john ternus secondo me per quel che può valere la mia opinione da piccolissimo sviluppatore dal profondo sud secondo me una una persona altrettanto valida potrebbe dare ad apple un'improvviso pronta che secondo me è importante in questo momento sembra un po che apple stia perdendo la bussola del dell'asset hardware c'è dove andare dove andare a parare quello che ha fatto team cook negli anni è stato quello di saturare l'offerta dei prodotti totalmente quindi da parlo ad esempio degli iphone prendiamo loro come esempio che sono l'esempio più lampante l'iphone prima era uno c'era l'iphone abbiamo parlato dell'iphone 3g 3gs c'era solo quelle bassa cambiavi la dimensione del dello storage eccetera poi sono cominciati ad arrivare il 6s il 6s plus e così via soltanto con team cook poi si è arrivata a questa platea di dispositivi adesso loro coprono tutto dal dispositivo di entry level da 400 euro al dispositivo da 2000 euro che è il 16 max 16 pro max e questa volontà di spalmare l'offerta su tutti i topic economici secondo me è una cosa tipica di chi lavora con i numeri è un ingegnere invece come potrebbe essere john ternus una persona più stretta da un punto di vista tecnico potrebbe riportare l'apple ad un'azienda che invece fa un prodotto più focused sulle caratteristiche meno sull'avere una maglia completa di tutte le fasce di prezzo non so se rendo quello si no rendi perfettamente io devo dirti che ho seguito il tuo ragionamento mi piace mi piace perché alcuni punti li condivido spero non perda la sua anima apple è più della somma delle singole parti spero sinceramente che insomma non perda quello spirito ecco quello spirito artistico che ti che che è sempre unito alla tecnologia cioè il computer apple quando lo vedi comunque ti comunica un'emozione il computer freddo windows me questa emozione non me la dà no quello quello è in dubbio mi lascia così un po non perplesso però mi stupisce il fatto che tu pensi che un po di quest'anima artistica venga anche da da tim cook secondo me ha dato quella quel come posso dire quella direzione quella non è steve jobs sicuramente però un po ha contribuito me team è una figura che più c'è dall'inizio mi sembrava un po opaco mi sembrava un po un burocrate mi sembrava il gorbachev dell'apple invece invece no invece si è rivelato non si è sicuramente rivelato se vogliamo rimanere con il paragone baffone stalin ma che per me rimarrà sempre steve ma non è nemmeno l'anonimo michael della fine dell'unione sovietica senti a proposito di di lato artistico di di apple volevo concludere la puntata con una un ricordo proprio in questi giorni cade la l'anniversario della presentazione di apple tv plus in particolare l'uno novembre del del 2019 apple presentò a tutti apple tv plus che in questi cinque anni è diventato un un prodotto che io personalmente utilizzo abbastanza spesso anche io volevo un attimino sentire discutere con te di dei passi avanti che sono stati fatti nella parte di streaming di apple io in queste giornate ho fatto qualche pillola su questa su questa cosa qui in generale sul sul costo del degli streaming quanto ci costano e quali davvero vale la pena tenere e tra questi secondo me tv plus ha un posto almeno nel mio cuore un posto speciale perché negli anni apple è riuscita a fare quello che gli altri secondo me non sono riusciti a fare cioè dire mantenere un servizio di altissima qualità ricordiamo che loro sono partiti con forse due o tre show c'era come si chiama quello bellissimo c'erano avevano the morning show the morning show esatto c'era the morning show e all mankind for all mankind che erano questi due show principali che tutti dovreste vedere assolutamente almeno la prima serie un paio di serie vederli perché adesso nel morning show è diventato impegnativo e dicevo sono riusciti a mantenere un'alta qualità pur non avendo una una quantità enorme di show come potrebbe essere disney plus e poi l'ha fatto una scelta e poi l'ha fatto una scelta ha detto su cosa mi concentro perché generalisti c'era già netflix c'era amazon prime c'era disney plus con il suo con tutto il suo catalogo di properties dove posso e lì si è vista l'intelligenza la grandiosità di chi c'è dietro il servizio di streaming ha detto beh io parla una nicchia io parla un nicchia ampia perché se no non faccio i numeri ma parla una nicchia e si è creata degli show incredibili dando anche fiducia non soltanto ai grandi nomi perché ricordiamo che hanno prodotto per esempio napoleon hanno prodotto tanta roba bella ma anche ha delle idee un po pazzoide io considero e te l'ho detto già in una scorsa puntata ma lo ripetisco anche in questa io considero che dopo lost pensavo che non ci fossero le serie del secolo ma scissione è la serie del secolo dopo lost per me adesso c'è la seconda la seconda serie che sarà da gennaio dal 25 gennaio mi sembra una roba del genere e già solo il trailer niente io mi sono emozionato perché mi piace cogliere alcuni alcuni frammenti ma ragazzi se non l'avete fatto andate a cercare su youtube il trailer di severance il trailer è bellissimo palloncini in blu ma ragazzi con la faccia sua e tutti i personaggi cambiati tra l'altro la musica è spettacolare gli who con si chiama eminence front bellissima canzone dell'82 degli who si sente questo strumento il famoso organo diamond ricreato dalla tastiera niente un numero un numero allora in generale in generale io vedo la differenza che c'è sono anche un utente netflix e l'ultimo periodo l'ultimo anno ahimè di netflix non è neanche lontanamente confrontabile con la qualità dei prodotti che tv plus sta tirando fuori qualche show interessante su netflix c'è anche ma tv plus è superiore tra l'altro ricordiamo che 2019 fu l'anno di lancio nel 2022 se non ricordo male 2022 apple vinse anche l'oscar per un film che produsse soltanto per lo streaming che era adesso non ricordo il nome il film che riguardava quelle persone che erano differentemente differentemente abili per la parte uditiva avevano problemi alla parte uditiva come si chiamava coda coda ah sì ok ho capito coda loro vinsero l'oscar per coda e non è cioè non è scontato è non ci sono dubbi oggi nell'offerta è chi chi vuole prende il generalista e chi guarda la parte anche se un po è cambiato alla parte fantasy guarda disney plus e chi vuole la qualità delle serie guarda d'apple tv plus e chi diciamo vuole un po un mix di tutto guarda amazon prime ma secondo me chi è un vero appassionato di serie non può perdersi i contenuti che ci sono su tv plus team regalaci un abbonamento anche a noi mentre che ci sei tra l'altro tra l'altro e l'oro credo che sia uscito un paio di settimane fa forse un mese fa al massimo una un l'annuncio di un di un cortometraggio sperimentale che funziona in pairing in tandem con i vision pro ma questo mi è sfuggito quindi quindi molti analisti sostengono che è il prossimo passaggio che ci sarà nei prossimi anni nel prossimo futuro è quello di utilizzare sistemi di realtà aumentata per entrare in questo nuovo metaverso della dell'intrattenimento interattivo ed apple ha tutto quanto insomma c'è un problema costia e l'unico problema che hanno è il costo ma se non avessero il problema del costo saremmo già cinque anni avanti rispetto a questo scenario certo sì ma secondo me devi dare tempo roberto cioè il vi è chiaro cioè se ne parla c'è stata un po di settimane fa l'annuncio di team cook è stato intervistato e diceva chiaramente anche lui che è chiaro che il vision pro di oggi è un prodotto che costa tanto ed è riservata ad una nicchia che vuole se investiranno abbastanza io ti garantisco che come hanno distrutto il mercato dei telefonini come hanno distrutto il mercato c'è distrutto hanno innovato radicalmente come ha fatto l'iphone la televisione sparirà e saremo tutti con i visori ma allora io immagino io immagino un futuro non troppo lontano secondo me quattro anni cinque anni cinque anni almeno cinque cinque anni in cui questi visori il visore di apple molto diverso in termini di peso trasportabilità ed uso sarà intorno ai 1000 euro sarà intorno ai 1000 euro che il costo che il costo di una buona televisione 4k oggi che il costo una buona televisione è sicuramente darà margine chiaramente 4000 euro tra l'altro in italia neanche lo puoi comprare comunque comunque sia a 1000 euro lo compro ma sì roberto cambia completamente la la prospettiva cioè spendere 4000 euro per un prodotto oggi non è proprio easy per tutti quanti 1000 euro comincia a diventare comincia a diventare soprattutto se vuoi stare on the age parliamo di prodotti di frontiera sei disposto a spenderli almeno questo è il mio pensiero e magari faremo anche qualcosa faranno anche qualcosa di un po più generalista mi riferisco al palinsesso di apple tv plus vedremo insomma non non so però è davvero un bel prodotto mi andava di parlarne perché sono un sostenitore ti posso lasciare con una previsione anzi voglio lasciare tutti con una previsione vai tu pensa alla potenzialità di un apple tv plus sul visore vision pro e la possibilità di interagire grazie al vision pro con i contenuti dello streaming video che ti stai vedendo ragazzi questa roba è la nuova frontiera se riusciranno perché ci sono problemi di costi tecnici di visione insomma non è una roba così significa che tu stai creando un nuovo mercato perché è quello che sostanzialmente è un videogioco però fatto con uno streaming video ok se tu riesci a portare questa roba alla massa hai creato un nuovo mercato e hai rivoluzionato completamente il concetto di quello che ci aspettiamo perché comunque ci vorrà una scossa ai prodotti perché il macbook con cui abbiamo aperto è bello l'iphone è bellissimo ma sono prodotti che sono lì da 20 anni e quindi serve qualcosa di nuovo esatto secondo me possiamo fare una seduta spiritica con con steve vediamo che ci suggerisce si può provare si può provare batti un colpo steve roberto grazie grazie a te ci aggiorniamo molto presto è un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori va bene ciao caro senti una cosa importante prima di lasciarli devono se si sono iscritti ma speriamo speriamo iscrivetevi mettete like commentate ma non mica ve lo dobbiamo dire noi no giusto ciao 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 caro ciao 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 io Grazie.